Noi ci troviamo nei prossimi 25 giorni a dover raccogliere circa un milione di voti, che rappresentano il 3% dell'elettorato. Sembra una montagna, ma in realtà l'invito che vi facciamo, compagni e compagni, è quello di spacchettare questa montagna e di suddividere attraverso le vostre circoscrizioni. Esiste un sito che si chiama Edigendo, dove è possibile verificare quali sono i voti che Poter al Popolo ha preso nelle scorse tornate elettorali e potete calcolarvi direttamente il vostro 3%. Questo è quello che dovete fare. Il 3% dei voti in un comune da 6.000 abitanti rappresentano meno di 100 voti. Dobbiamo tenere presente che noi saremo completamente censurati dai media mainstream. Dobbiamo attuare una campagna elettorale che ci permetta di cercare altri spazi. La comunicazione offline, quella che abbiamo chiamato porta a porta, è uno dei modi con cui è possibile attuare questa strategia. Dobbiamo incontrare la gente, essere a contatto diretto con le persone, parlare. La differenza fondamentale che esiste fra una comunicazione social e una comunicazione offline e porta a porta è proprio questa. La relazione, la possibilità di interagire con le persone, di fare loro domande, di capire da quale contesto provengono, di intercettare i voti che noi vogliamo andare a conquistare, ovvero quelli delle classi popolari. Come agire? Dobbiamo creare delle liste di potenziali elettori, delle liste di persone che potrebbero essere interessate a votarci. Partiamo dalle nostre cerchie, dalle nostre cerchie più vicine, da quelle degli aderenti, da coloro che hanno sostenuto la nostra lista, dai nostri amici, dai nostri parenti. E cominciamo a creare, attraverso un file Excel, delle vere e proprie liste di persone che andremo via via a contattare. Allarghiamo queste cerchie volta per volta, andando a chiedere a queste stesse persone di darci una mano, condividendo con loro quello che è l'obiettivo che loro devono raggiungere all'interno del loro paese. Qual è il 3% nel loro paese? Quanti voti devono prendere? E chiediamo a queste persone, dandogli dei compiti e degli obiettivi precisi, di aiutarci ad organizzare incontri. Un'altra modalità in cui potremmo agire è quella di utilizzare i luoghi in cui l'azione sociale è presente all'interno dei quartieri e in quei quartieri fare il porta a porta. Contattare tutte le persone singolarmente, casa per casa, andando a raccontare chi siamo, andando a raccontare cosa abbiamo fatto e andando a raccontare quelli che sono i nostri progetti. Quali sono i luoghi in cui è possibile incontrare la gente? Allora, innanzitutto le scuole. All'entrata o all'uscita dei bambini, dei ragazzi, lì è possibile incontrare le famiglie che aspettano i bambini, che hanno tempo per ascoltarci. Un altro luogo è la casa, andare a trovare le persone direttamente a casa. Questo è possibile farlo in una fascia oraria preferenzialmente dalle 18.30 alle 20.30, quando la gente è uscita dal lavoro e si prepara per cenare. Tutti i luoghi di aggregazione possono essere luoghi adatti per poter fare questa attività, inclusi i club, i bar, i locali in cui conosciamo, frequentati da gente che possiamo contattare. All'interno del kit che vi forniremo, voi troverete tutto il materiale necessario per fare questa attività. Il programma, il programma di Unione Popolare, un flyer, un FAQ simile, una serie di materiali grafici da poter personalizzare, e dei documenti che contengono delle domande, le domande più frequenti, delle FAQ, rispetto al nostro programma. domande che le persone che incontrerete potrebbero farvi e attraverso le quali, diciamo, voi potrete documentarvi. Allora, vediamo adesso come approcciare una persona come primo contatto. I primi secondi dell'approccio sono essenziali. All'interno di questo contatto voi dovete veicolare, intanto, un sorriso, una modalità di intervento, di relazione, piuttosto leggera, piuttosto cordiale, che metta, diciamo, l'altra persona di buon umore. Dopodiché dovete tenere presente tre aspetti che devono essere comunicati in un primo contatto che dura pochissimi secondi. Dobbiamo dire, chiaramente, chi siamo, il motivo per cui li stiamo fermando, e soprattutto, diciamo, il permesso di poter parlare con loro. Utilizzate delle parole chiave, come il nome della nostra lista, Unione Popolare. Utilizzate elezioni, elezioni del 25 settembre. Utilizzate alcuni argomenti chiave come salario minimo oppure redistribuzione della ricchezza. Più sarete, diciamo, precisi nel comunicare, maggiori saranno le probabilità che queste persone possano, in qualche maniera, continuare la conversazione. Tenete presente che questo approccio è un gioco di numeri. Se anche noi prendessimo il 10%, con l'astenzione, circa più di 90 persone ci manderebbero a quel paese. Solo 10 sarebbero disposti a continuare a parlare con noi. Quindi non vi scoraggiate e continuate questo approccio. All'interno del kit del militante troverete un flyer con il nostro programma e con gli argomenti. Una volta approcciato una persona, una volta che avete visto che da parte di questa persona c'è interesse, approcciatevi con l'ascolto, facendo delle domande, tentando di capire da dove viene, che lavoro fa, quali sono le urgenze che sente in questo momento, cosa vuole dalla classe politica. E tentate di capire se gli argomenti del nostro programma elettorale, cosa pensa questa persona degli argomenti del nostro programma elettorale, cosa pensa del salario minimo a 10 euro, cosa pensa della redistribuzione della ricchezza, cosa pensa dello stop al caro delle bollette, cosa pensa di tutti gli elementi che sono presenti all'interno del nostro programma, non espressi in maniera generica, ma espressi in maniera specifica sotto forma di proposte. Questa discussione che deve essere, ripeto, svolta sotto forma di domande, di conversazione, non deve essere un monologo, non dobbiamo inundare le persone con le nostre parole, ma dobbiamo fare in modo che loro parlino. Una volta fatto questo, l'obiettivo è quello, in qualche maniera, di spingerle a votarci oppure perché no, a diventare un attivista, ad attivarsi loro stesse a convincere altre persone, anche attraverso piccole azioni che possiamo dargli da fare, come cambiare la foto di stato di WhatsApp, per esempio, oppure dare il nostro programma ad alcuni loro parenti o ad alcuni loro amici. Tenete presente che più questa persona si impegnerà pubblicamente, più tenderà a rispettare questo impegno coerente. Quindi spingete le persone a fare degli endorsement, ad impegnarsi pubblicamente a votarvi. In qualche maniera, diciamo, influenzate le persone all'interno di questa azione. Occorre tenere presente che noi non siamo un partito come gli altri. Noi vogliamo, in qualche maniera, comunicare quelle che sono le reali esigenze della maggioranza del Paese. Il nostro programma nasce dall'ascolto, dall'ascolto di chi ha frequentato le nostre case del popolo, dall'ascolto dei militanti. Il salario minimo a 10 euro è un'esigenza di questo Paese che ha visto ormai salari fermi per oltre 20 anni. La riconversione energetica è una necessità. La ridistribuzione della ricchezza è un obbligo, perché abbiamo visto in questi 20 anni i salari diminuire e i profitti dei soliti aumentare. Ricordate che se una persona è interessata potrebbe anche aderire al PAP. Quindi l'obiettivo di questi contatti è anche quello di far crescere e rafforzare la nostra organizzazione. La campagna elettorale, compagni e compagni, è un'opportunità. Un'opportunità in cui dobbiamo sperimentare modalità nuove attraverso cui far crescere la nostra organizzazione. Noi siamo a vostra disposizione, quindi se avete dubbi, domande, consigli, contattate direttamente il vostro coordinatore locale attraverso cui potete essere a contatto con noi. Forza, hasta la vittoria!